Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Brawl Stars Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi Lascia il hashtag Brawl Stars e qua sotto i commenti per ricevere un cuoricino E andiamo avanti con questa nuova puntata Come avete letto dal titolo, io oggi vi darò la vera data effettiva del rilascio della skin di San Valentino Pocio romanticone ragazzi, molti non se ne sono accorti Eppure questa cosa è già all'interno di Brawl Stars, si può scoprire già direttamente Un'altra cosa che vi posso affermare è che il costo di questa skin sarà di 150 gemme Ma sicuramente ci sarà qualche sconto come fanno sempre nello shop di Brawl Stars per l'evento del rilascio ragazzi Allora, quando è la data? Tutti dicono sicuramente è il 14 di questo mese Perché è San Valentino, ma andiamo a vedere se effettivamente è così Se andiamo nel nostro Brawler List, nella lista dei nostri Brawler E andiamo su Pocio, noi possiamo già scorrere le skin di Pocio ragazzi Se andiamo qui su Pocio romanticone, perché già c'è Abbiamo un orologetto che dice Prossimamente tra un giorno e 21 ore Sto facendo il video alle 11.54 dell'11.02 Fatevi conti, non può essere il 14 È il giorno prima Il giorno prima di San Valentino Esce Pocio romanticone ragazzi E si potrà shoppare al costo di 150 gemme O poco meno, visto che appunto c'è la possibilità di qualche sconto Non so se Linfo ci dice qualcos'altro No, giustamente ci dice soltanto appunto quello che fa Pocio Io direi, a questo punto, visto che abbiamo parlato proprio di Pocio Di andare a fare diverse partite insieme al nostro personaggio Andiamo a fare un po' di partite in a raffa gemme Sono con Mister Alaghi e Shadow Vediamo un po' che riusciamo a combinare Ok, la squadra avversaria ha un Pocio Ugualmente Tanto in questo caso io ho preso più botte Aya ne sta a prendere tante altre Ok, Shadow cerca di prendere gemme al centro Rischiando molto la vita Infatti è quello che è successo Ok, ho recuperato un po' di vita a Mister Alaghi Ho preso la botta in faccia, pesa pesa Ma io che back Ok, una volta l'ho preso Non so come ho fatto a prendere il Brock, ma l'ho preso Aya Eh, quella super è stata veramente una brutta botta Ah no, però Mister Alaghi Non rimane fermo Ok Ok, curiamolo Assolutamente Ah, no, no, non ci credo Ah, è morto Ok Ok, è morto Ahia Dai, non può essere sta storia Ok, io sono vivo con 5 Ma quelli mociano al centro Tutto per loro Penso che ci abbia anche il Pocio con la cura Carica Ok, adesso ce l'ho carica anch'io Curo subito Shadow Che va a prendere la Gemma che serve Ok Ha sprecato la Super Quel Pocio no Si è curato bene invece Io volevo prendere quella Gemma per arrivare a 10 Ma non ce l'ho fatta Ok Ok Eh, no, Mister Alaghi è morto lì Ah Ha sprecato il colpo di Brock Niente, Mister Alaghi è morto lì Siamo a 7 su 10 No, regà, no, regà, no, regà 6 a 8 6 a 8 Non può essere Polle Eh, niente Ce se butta Ce se butta De cattiveria Vai Quello, quello, quello Sì Sì, va bene, va bene, va bene Si può fare Si può fare Posso scappare Sì, ma datemi una mano Dai, uccidilo Niente Dai, prendete le Gemma adesso Uh Scappa Scappa E niente Dove dargli fastidio No, non c'è andato Ok, si, facci, facci, facci Ce n'hai sufficienza Ce n'hai sufficienza Mordughino attacca di cattiveria Non c'è veniva Alaghi Uh Dagli fastidio Mordugh Dagli fastidio Perfetto Vittoria Combattuta Ci è piaciuta questa Wow Parte una seconda partita La prima è andata Molto combattuta L'abbiamo recuperata dopo È stata veramente tosta Ah, di là c'hanno un coso Però non c'hanno la cura di là Questa volta c'è un piccolo vantaggio per noi Anche se la Viper può essere molto fastidiosa Ok Il petto là Col petto qua No, dai Non ci credo Mmm Vedo come si è salvato quella Dai Non ci credo Non ci credo Regà, non vi fate fregare così dal Mortis È potenziato Ma è facile da contrastare Non è stato potenziato così tanto Sì, la vita Mi aumenta tanto Ma non è così potente Ok Dai Niente Shadow, che fai? Aspetti di vedere dal muretto Non l'ho capito Non l'ho capita Ok, ci riproviamo Vediamo un po' se riusciamo a Vestirla un po' meglio E niente Questo Mortis È sempre bello carico Ma dispiace per te Dai Shadow Attacca Attacca Uccidili Bella Bella Shadow Ottima action Bellissima Oh Eh Mortis Hai rotto un attimo tre quarti, eh Sì, noi hai rotto un attimo tre quarti Eh beh, no Eh, non hai capito niente Gisbia No, ce l'ho io due Eh, ma ammazza Ammazza, ma ammazza Ma ammazza Ma ammazza Ma uccidilo Non è viva ancora Ci dico Uh Mamma mia Che fortuna Vittoria E mi sono preso anche il migliore Dai, un'altra partita Ultima partita per Morduchino Sembra che ammisterà Like and Shadow Abbiamo preso questo team E ci andiamo di cattiveria Composizione abbastanza buona Ci va, ci va Aia No, il po' c'è pure dall'altra parte C'è pure la Jessica Quello imbazzini Eh Puretta Che ha preso tutti e tre Mamma mia Il top Aia Che di là doppio curatore oltretutto Quindi sarà veramente un bel problema gestirla Però per adesso siamo in un piccolo vantaggio Diciamolo piccolo Il colore Non esageriamo con i vantaggi Perché sì Abbiamo qualche gemma in più Ma Regà però Non rimanete fermi Perché vi siete fatti ammazzare così Io non capisco il fatto di rimanere fermi Mentre vi stanno menando Anche se stare fermi Aspetta il cipuglio Mamma mia Eh beh Però no Così no regà Non c'è andata in faccia Con fuoca vita Lo so che serve per farli allontanare Ma Eh pure io l'ho fatto Se sto sbaglio adesso però Ho parlato tanto E l'ho fatto pure io Questa è una partita Dove sto sbagliando tanto Si può stare comunque Non si possono vincere tutte Eh già stanno a vincere questi Ci hanno devastato Aia Eh mago Quanto mi ha tirato Ma che Ci posso pure provare Ma Perché vedo shadow fermo No ho visto shadow fermo Regà Dov'è l'altro ragazzo Non lo vedo No c'è qualcosa E non va Mi ha recrasciato Mister Allaghi Ecco perché Non avevamo la possibilità Di combattere al pieno Infatti a una certa Non si vedeva più neanche Combattere Era rimasto fermo là Ok Per adesso abbiamo preso uno random Perché neanche dal club A quest'ora probabilmente Stanno mangiando Ha risposto Quindi vediamo un po' Che succede Ok cerchiamo di Eh no Questa è una brutta situation Tutti cicciottoni Però Penso sia fattibile Recuperabile anche La situazione Aia Oh Quella super Ha preso l'orzacchiotto E non l'ha preso noi Perfetto Curiamo shadow Olle Aia Il primo sta lavorando Veramente bene Ok cerchiamo di prendere Tutte le gemme possibili Diamo fastidio Con l'orzacchiotto Come giusto che sia Uh cura Mamma mia Morduchino Che c'hai Quasi rimesso E mo ci rimettiamo tutti Mordo che ci rimette Shadow Ci rimette Rimasto solo il primo Con 186 di vita Che sta saltando bene Mi è piaciuta quella cosa Ok vediamo un po' Dove vai Ciao Ciao bull Ciao bull Mi dispiace per te Il primo c'ha talmente Tanta vita Che neanche riesca a full Lato con le ore Bellissimo Aia Attento shadow Ok per fortuna Shadow non c'ha più gemme Ok Andiamo molto Più aggressive Da sto lato Cercando di prendere Tutti insieme Così Carico la super Fatto Ok Allontaniamoli Con le E rimani là Vai 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 Intanto non te curi E vabbè C'ho una gemma Dai prendimela No Non andare il primo Prendi la gemma Bravo Adesso back 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 Attenti al bull Senti al bull Che sta arrivando Insieme a Frank Uccide subito Frank Perfetto Abbiamo ucciso Franco Di cattiveria Senti alla Shelly Senti al bull Che carica lì Mamma mia Bam Vittoria fantastica Ok E' andata bene E va bene ragazzi Pocio Romanticone Esce il 13 E non il 14 In più Costerà 150 gemme Però sicuramente Ci sarà qualche sconto Per il rilascio Arriviamo a 300 like Condividete i video Iscrivetevi al canale Se è nuovi Lascia il hashtag Brawl Stars Qua sotto nei commenti Per ricevere un cuoricino E hashtag Romanticone Se anche voi State aspettando Pocio Romanticone E ci vediamo In un prossimo video